Dove andiamo? Da nessuna parte, lo facciamo qui. No, per niente! Avanti. No, assolutamente no, scherzi. No, abbassati i pantaloni. Faccio presto, dentro e fuori. Oh mio Dio! Guarda, si prendi in giro. Sono serio, dov'è finito il tuo spirito d'avventura? Il mio spirito d'avventura è giù al primo piano, non nell'ascensore. Andiamo. Se non vuoi farlo per me, fallo per il nostro bambino. Forza, dirti. Io non riesco a credere a quello che faccio. Spero che il nostro bambino immaginario alla fine valga tutto questo. Ok, ci siamo. Ecco. Fatto, avevo detto che avrei fatto questo. Non vedo l'ora di conoscere il nostro fantomatico bambino. Anche io.